Buongiorno a tutti, bentornati su CryptoFarm Italia. Oggi vi porto un aggiornamento che ho discusso sul mio Discord per quanto riguarda il bridge più importante e più grande sulla DeFi che è MultiChain. Se non lo conoscete vi lascio alcuni video in descrizione di cui ne ho parlato. MultiChain ad oggi lavora su più di 52 Chain, ha scambiato più di 81 miliardi di controvalore, attualmente ha un 5.7 miliardi al suo interno, su più di 2300 token. Essendo i bridge uno dei punti più delicati di tutta la DeFi per quanto riguarda la sicurezza, MultiChain presenta una moltitudine di audit dalle maggiori firm che ci sono in ambito di sicurezza proprio nel mondo della blockchain e della criptovaluta. Mentre sto registrando il token di MultiChain vale 4.75$ e come potete vedere la price action dovuta soprattutto alle condizioni finali di mercato in cui ci stiamo trovando è assolutamente non positiva. Attualmente vi sono circa, da quanto ha riportato la società, 18.639.000 token Multi in circolazione su una max supply di 100 milioni. Dopo ovviamente vi spiego il perché mi interessa questo dato sulla tokenomics. Il token Multi è scambiabile sui principali checks, quindi Binance, GTO, Kraken, ma anche su tantissimi DEX in DeFi, Sushi, Spooky, Pancake. Insomma, guardatele, ci avete tutta la lista ovviamente su CoinMarketCap. Per chi non l'avesse mai utilizzato prima di oggi, le caratteristiche principali di MultiChain sotto router è che potete scambiare veramente un'infinità di asset tra differenti chain e il costo, soprattutto per quanto riguarda le stablecoin, ma anche tantissimi altri asset, è veramente molto basso. Si parla nemmeno di un dollaro sulle principali chain. Vi è sempre tanta liquidità e non rischiate quasi mai di rimanere incastrati. Tutto questo pone MultiChain nella possibilità di generare un quantitativo di transazioni, di volume e quindi anche di fidi, ricavi che guadagna la piattaforma, veramente enorme. E qua arriviamo al punto importante del video del perché faccio questo video. Perché da poco è stata rilasciata la possibilità di utilizzare i nostri token Ulti nella forma VE Multi, cioè nel modello proposto da Curve come Locking. Infatti dal 9 di maggio del 2022 c'è la possibilità di andare a mettere in stake i nostri Multi per creare il VE Multi NFT. Chi detiene il Multi VE NFT ha il diritto di ricevere il 45% delle fee che vengono raccolte dalla piattaforma e saranno distribuite ogni trimestre. Infatti nel primo trimestre del 2022 sono stati raccolti 3.901.000 dollari come fee che verranno distribuite nelle 9 settimane seguenti fino al 14 di luglio. La distribuzione è settimanale. Ma la cosa più interessante è che non vengono distribuite in token Multi o in un altro token che potrebbe essere inflattivo, che viene utilizzato come farming reward. No, vengono pagate in USDC. E questa è una cosa sicuramente importante andando a tenere conto della supply di Multi che è limitata a 100 milioni. Quindi non viene dispersa andando a pagare in token Multi rendendolo inflattivo. Attualmente si possono andare a mettere in staking a questo link i nostri Multi sia su Ethereum che su BNB che su Phantom. Le cose interessanti, beh, in primis è l'APR che viene pagato. Attualmente il 160% e viene pagato ogni settimana in USDC. Un'altra cosa interessante che permette questo APR così elevato è che solamente il 20%, anzi qualcosina di meno del circolante, è bloccato sotto forma di token Multi. Quindi le fee vengono suddivise su una parte piuttosto bassa perché come vedete su BNB è lo 0.8%. Se andiamo su Phantom è l'1.89% e su Ethereum è il 17.89%, quindi circa un 20%. Con un periodo medio di locking veramente molto elevato perché la quota parte maggiore è su Ethereum e su Ethereum c'è un locking di 3.8 anni e ogni settimana appunto paga in USDC. Il locking è ovviamente direttamente proporzionale al tempo in cui andate a bloccare i vostri asset. Per esempio per un anno vi verranno consegnati 0.25 V e Multi per ogni Multi fino ad arrivare a 4 anni dove avrete un rapporto 1 a 1. Questo rapporto decresce linearmente nel tempo e dopo 4 anni vi verranno sbloccati i vostri token e voi potrete farci quello che volete. Nel frattempo continuerete a maturare le reward in USDC. Se vi interessano tutti i fogli Excel li trovate sul mio Discord. Trovate anche in tempo reale sul mio portfolio le movimentazioni che faccio con l'account di CryptoFarm Italia. C'è una sezione dove vado a inserire i tweet più rilevanti. Vi è una sezione anche dedicata per i video privati per gli utenti di Discord. Abbiamo aperto da poco anche il Premium Influencer dove andiamo a fare un riassunto delle itesi e delle idee di alcuni degli influencer più famosi come Steven, come Taiki Mida. Potete trovare una sezione con tutte le risorse. Abbonarsi è semplicissimo. L'abbonamento costa 100 dollari e vale 3 mesi. Vi lascio anche lo smart contract di V e Multi Reward dove vengono appunto depositate le reward che vengono sviluppate attraverso la piattaforma per creare il vostro NFT lockato. Cioè per avere i vostri V e Multi andate su Create Lock. È molto semplice. Selezionate un importo di multi che avete e scegliete l'orizzonte temporale da due settimane fino a quattro anni. In relazione all'orizzonte temporale ovviamente cambia anche il rapporto di V e Multi che vi viene dato, come vi ho appena fatto vedere, e cambia anche il periodo di blocco. Attualmente, essendo appunto degli NFT, possono essere tradati sulle piattaforme che si occupano di questo. Per esempio OpenSea. La cosa interessante sarà vedere come si potranno utilizzare in futuro questi V e NFT e come le altre piattaforme potranno interagire con questa applicazione per creare dei rendimenti aggiuntivi delle partnership, secondo me, molto interessanti. Infatti io penso che potranno essere utilizzati come Interest Bearing Token, potranno essere utilizzati come capacità da parte delle altre applicazioni di accumulare V e Multi in modo da poter avere un maggior ritorno sulle fee, poter decidere in un futuro un sistema di bribes simile a quello di Curvo o di tantissime altre piattaforme che abbiamo conosciuto, sviluppare delle forme liquide su altri decks. Insomma, le possibilità sono veramente tante. Su OpenSea potete già vedere i V e Multi NFT, potete fare ovviamente come per qualsiasi NFT la vostra proposta. Ovviamente sapete benissimo che non sono consigli di investimento e non vi sto dicendo di comprare il token Multi. Questa è una mia riflessione personale e nient'altro. È innegabile che la price action è estremamente negativa in questo momento. È innegabile, altresì, che la piattaforma però genera un quantitativo di fee incredibile ed è il leader attualmente indiscusso del mercato dei bridge. Questa cosa del V e Multi è partita veramente da poco tempo. Gli APR sono piuttosto interessanti. Qual è il rischio? Il rischio è di scambiare dei dollari per comprare il token di multichain. Scambiare dollari che hanno un valore per quanto riguarda tutto il mondo e ottenere un token che ha valore solamente all'interno di questo mondo. È sicuramente interessante poter ricevere un sacco di fee da parte della piattaforma. La domanda che ci dobbiamo fare è perché la piattaforma vuole darci il 45% delle fee di quello che lei guadagna. Potrebbe pensare che il mercato della DeFi e quindi eventualmente anche tutte le transazioni che si svilupperanno nel prossimo futuro molto probabilmente saranno inferiori a quello che abbiamo visto sino ad adesso? E quindi questo è un modo per accappararsi immediatamente dei dollari che hanno valore ovunque dandovi un token che ha valore come vi ho detto solo in questo sistema. Io nella benevolenza credo sempre molto poco. È comunque innegabile che è un'opportunità interessante e per me, dico solo per me, potrebbe essere interessante entrarci una parte in forma bloccata e una parte in forma liquida da utilizzare eventualmente per ripagarmi l'operatività della mia parte bloccata qualora il prezzo tendesse a risalire e quindi almeno pareggiare i conti su quello che a quattro anni diciamo è un investimento a fondo perduto. Altresì importante potrebbe essere entrare non in un'unica soluzione ma in una soluzione suddivisa su un orizzonte temporale di due o tre mesi. È altresì facile pensare che con uno quantitativo così piccolo di multi rispetto al circolante bloccato e a un APR così generoso probabilmente molta gente entrerà all'interno di questo protocollo facendo poi ridurre anche la percentuale dell'APR. Ultimo ma non ultimo essendo o provando almeno a essere un divulgatore per quanto riguarda le criptovalute è fare sì anche che le piattaforme collaborino fra di loro per ottenere il massimo risultato possibile la massima resa possibile su vari ecosistemi. E secondo me potrebbe essere interessante che progetti come LQDR Beethoven, Kidao, Grudefy e tanti altri potessero sviluppare delle partnership proprio con un multichain su queste forme tradabili sviluppando magari dell'autocompound sulle reward che vengono gestite sulle USDC creando delle forme liquide come vi ho detto creando degli interest bearing token che possono dare la possibilità di mintare la propria stablecoin a utilizzarla nelle piattaforme di lending insomma ci sono tantissime opportunità. Proprio ieri mi sono messo a parlare sul canale di Liquid Driver con uno dei devs che ancora non hanno un piano preciso a riguardo ma sono piuttosto interessati a questo progetto perché appunto rientra nella loro roadmap rientra nella loro possibilità di accumulare del voting power su una determinata piattaforma per reindirizzare le bripes per reindirizzare i rendimenti sulle loro farm all'interno della loro piattaforma e generare delle fee per i detentori ovviamente di XLQDR. Spero che abbiate gradito il video su Multichain secondo me è una bella realtà una bella possibilità soprattutto se le cose riprenderanno a vaccinare un po' meglio se non mi seguite venite pure a trovarmi su YouTube su Telegram e se volete anche su Discord. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. a a a a a Grazie per la visione!